Marco, ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto a quando non c'era il governo di destra o no? Intanto la cosa più clamorosa di oggi è la presa di posizione del Presidente della Repubblica che ha stigmatizzato la gestione dell'ordine pubblico e si è fatto vivo con il Ministro dell'Interno, Piantedosi, che invece latitava tanto per cambiare. Ma la gestione dell'ordine pubblico implica una gestione e noi invece vediamo che c'è, non credo che ci sia un ordine di massacrare la gente di botte, ma ogni volta che c'è una manifestazione scattano le cariche ai manganelli, addirittura una manifestazione di liceali, cioè veramente ci sono delle manifestazioni dove ci sono dei faccino rosi che provocano, che magari commettono anche atti di violenza, non è questo il caso. Hanno cercato penosamente di dire che volevano marciare sul cimitero ebraico, non sanno neanche che esiste il cimitero ebraico. La sinagoga era da tutt'altra parte, quindi è proprio una cosa spiegabile soltanto con la, da un lato, incapacità di Piantedosi, che peraltro non scopriamo oggi. C'è da meravigliarsi non solo che faccia il Ministro dell'Interno, ma che prima facesse il Prefetto di Roma, uno così incapace, che ogni volta che parla perde un'occasione per stare zitto, pensiamo soltanto alle fesserie che disse dopo un naufragio di Cutro. C'è evidentemente qualche settore, alcuni settori della Polizia che vogliono menare le mani e che hanno capito che questo è il momento in cui lo possono fare impunemente. È un saltore, non c'è un ordine politico. Perché altrimenti è un po' quello che successe molto più gravemente, perché tutto concentrato in tre giorni al G8 di Genova, che era già accaduto pochi mesi prima, sempre nel 2001, nell'ultima fase del governo amato a Napoli, quando ci furono già delle proteste di quelli che all'epoca si chiamavano i no global e furono massacrati di botte anche lì e ci fu un'indagine della Procura di Napoli e furono anche arrestati alcuni agenti. La stessa cosa è avvenuta a Genova. Cioè io non credo che a Genova Gianfranco Fini e Scaiola abbiano dato l'ordine di fare quel massacro che fecero alla Diaz e a Bolzaneto. Penso che però ci siano dei settori, delle forze dell'ordine, che hanno il manganello facile e una grande voglia di menare le mani e che se scoprono non che c'è un ordine di farlo ma che non c'è un divieto di farlo, lo fanno. E ogni manifestazione si ripete questa violenza e il fatto che non venga mai stigmatizzata e sanzionata autorizza a farlo la volta dopo. Oggi è intervenuto il capo dello Stato, vediamo se piante e dosi di raffinamento qualcosa. Maurizio Belpietro, oggi sulla verità tu scrivi che l'ordine pubblico va tutelato, però il richiamo del Presidente della Repubblica a un Ministero dell'Interno, come è stato oggi, non si è visto tanto spesso. Tu cosa pensi della vicenda? Io penso che l'ordine pubblico vada sempre tutelato e vada sempre tutelata alla sicurezza dello Stato, quindi forse se Mattarella oltre a svegliarsi in questo caso, fa benissimo a dire le sue cose, si svegliasse anche quando ci sono degli scontri in piazza, diciamo che sarei più contento, lo troverei un po' più equilibrato. Detto ciò ho assistito oggi alla manifestazione a Milano, molto partecipata fra l'altro, di ragazzi che protestavano e inneggiavano alla Palestina Libera, all'uscita dalla Nato, non so bene cosa c'entrassero le due cose, ma non importa, l'uscita dell'Italia ovviamente, ed è stata una manifestazione pacifica, non ci sono stati scontri, non ci sono stati problemi, c'era molta polizia, c'erano molte strade bloccate, ma diciamo che siamo nella norma, assolutamente nella norma. Sì, ma non solo dopo ieri, io penso che quando tu invece preferisci organizzare delle manifestazioni, perché è vero che magari ci sono alcuni uomini delle forze dell'ordine che hanno voglia di menare le mani, ma ho la sensazione che ce ne siano altre tanti, anzi forse di più, dall'altra parte, di persone che abbiano ogni tanto voglia di menare le mani. Certo che se mandi avanti dei ragazzini dei liceali, magari premendoli e spingendoli contro un cordone delle forze dell'ordine, può anche succedere quando le forze dell'ordine hanno l'ordine appunto di non farti passare, cioè di difendere una posizione, che reagiscano e ti respingano. E succede quello che abbiamo visto a Napoli, temo adesso, non sono del tutto chiare le immagini di Pisa, ma temo che siano successe le stesse cose più o meno a Pisa. Cioè la gestione dell'ordine pubblico va fatta sicuramente da parte di chi ha l'incarico di dover tutelare la sicurezza di una città, ma anche di chi organizza una manifestazione.